Sì, sembra che non sbagliare Ma non hai bisogno di dare un'altra E non hai bisogno di dare un altro E non hai bisogno di dare un altro Dove ne vuoi perdere un'altra così a cavolo Bambino vai tranquillo Ma non sarebbe una cattiva idea Bambino vai tranquillo morirei solo tu Oddio quanti, ehm C'è l'imbarazzo della scelta, non lo so Qualcuno ha detto gi- Nono c'è da- Io sono il pilastro delle fiamme Scarica! io sono fortissi fortississi ho letto ciao a tutti ragazzi sono il nonno spacca tutto e oggi commentiamo sta gran minchiatuna della serie di the lady ha scassato la minchia con questa serie oh nasca di noi non so come cazzo hai fatto ma l'hai presa scusi sa dove hai la biancheria intima eh oh mio dio sa dove fa ma l'avevo presa che serata stratosferica uno sballo annunciato che è successo vabbè ora mi cazzo vabbè no se l'ho detto mi cazzavo io te l'avevo avvertito non ce l'ho detto io non ce l'ho detto io era importante no non piace da niente non stavo girando che sta succedendo che sta succedendo che sta succedendo ma che cazzo sta succedendo chi si è sentito male? no 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 credo che tu non faccia ridere si o no si o no ma che ma le pasta giù lo so si ma con noto rafferlo io e Cerenotte rombo io volessi sapere coso e chi si casano spicchio nel Cerenotte e pichino a fottere va bene va bene scossa? scossa? nooo io sono va bene hai voglia di ridere forse ti sei dimenticato che conosco le sei tecniche premiere no va bene va bene va bene va bene fischia 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 che cazzo fischiii sei tecniche sei tecniche sei tecniche ecco io ecco io no io gli avevo detto di fischiare e io sono qua ho fatto già pronto giallo o il rosso io preferivo il rosso ma non sono duro no che cazzo ma che cosa ci facevi là scusa forca madonna quella troia della madonna cosa ci facevi là 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 gol per il mese non mi deve incalzare poi gol è possibile e che te lo dici quando l'ho pure parata ma andava fuori ed era calcio d'angolo è un attimo si libera bene qui zitto che non è fuori gioco parata suprema è del cazzo oh mano della mano insuperabile ahahahahahahahahahah no no non ho parola no non ho parola no non ho parola ahahahahahahah proprio bestend no no non ho parola perché l'hai passata vai uomo n ai miei possati su uomo mano insuperabile ma no insuperabile attenzione a b lo picchio con la testa della madre no ah ucciso ucciso cazzo alco ok ti ho fatto un passaglio basta solamente parlare e citare della sua base e già si scatena di finimonde si è vero, quello che dobbiamo fare tu ti capimi tu il risveglio dell'antico il risveglio dell'antico guarda guarda ho già presa la tu ti rendi conto Dio culo senti 8 odi Dalla sua base è sempre con noi Dio non ci credo non ci credo dov'è della sua base? dov'è della sua base? è qua ecco ecco guardate la sua base dov'è della sua base? della sua base voglio Dio Ira della giraffa Dio voglio vedere era un'allucinazione prendi la sua base si va la base prego 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 bello su della sua base no non ci credo pittana che fallo dischi adesso ti prenderà lo dico adesso ti prenderà senti avvicinare mi hanno troppo per un attimo mi è sembrato di vedere una figura con tre teste e sei braccia si lascia scappare la sua base ecco il tiro no vabbè no vabbè no vabbè mi fa 18 mi fa 18 mi fa 19 perchè lascia ieri che sono bravi a recitare di nuovo pass di nuovo pass era gol quello fatto una versione incredibile professore quella troia della madonna lancia bicidiale no 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 stoccata bicidiale no no non ci credo no vabbè non lo voglio rivedere non ci credo mai io lo voglio rivedere mi piacciono questi passaggi quindi stai attento che potrei anche passartela davanti sicurezza di maria giù su giù su non è possibile comodamente addio l'hai presa wow oh no ma Gio che hai fatto? ma Gio non ho fatto niente ho solo fatto c... ma non è possibile io l'ho fermato appunto si è rotto un schermo oh ma come? io sono fortissimo mi fai pena sei come uno squalo non hai ossa neanche nel cranio appena esci in società dimostri che sei fatto di cartilagine tirato fuori dal tuo mondo muori schiacciato dal tuo essere è come un peso che ti annienta e tu sembri la balena blu i tuoi pensieri pesano tonnellate non ci attifano qualsiasi cosa succede succede non è possibile ma non so di sediente mi ha bloccato il portiere mi ha bloccato il portiere mi ha bloccato il portiere ma è la micchia guarda ma Gio che hai fatto? ma Gio non ho fatto niente Monella! 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 Sei una monella! Sei una monella! S Monstaingrinal di Onohu! You see? Gli 스폰rabi coron告? No! Why I ERC INSTITUTE AMO A MIERDIS! ICO!!! 16 HOTAL personas You're Schicks! 50 Smooth vida I Don't right? Oh i thank you baby, aолнä rigore no voglio il rigore di poco no in chiamata mi ha ucciso le gambe non ha fischiato perché per un attimo mi è sembrato di vedere una figura con tre teste e sei braccia non capito non ho capito non ho capito non che non poteva tirare l'aereo casca su ciò chiarito o massimo può migliare un premio come migliore arancino che vere dell'anno tu sei la vecchia di 150 anni che ancora si veste come una stupa chiara purevo io così se la p***a monella che sta succedendo ma la salva appena posto